Immaginatevi di iniziare ad arrampicare nel 1978 a scuola. Immaginatevi che successivamente per andare in falesia dovete viaggiare in autostop e che tra uno spostamento e l'altro un viaggio di mezz'ora si trasforma in un'odissea di ore. Immaginatevi di dormire in baracche, di sopportare freddo e topi che vi camminano addosso durante le notti. Immaginatevi di farlo perché tutto questo è la cosa che in assoluto più amate nella vita. Immaginatevi che nel 1982 a 19 anni vostro padre vi paga il primo viaggio negli Stati Uniti e decidete di andare col chiodo fisso di salire quattro delle vie più dure del paese. E una volta lì salite Genesis e Psycho Roof, entrambe vie di 7C. Riuscite in stile Flash su Supercrack e su Equinox a Joshua Tree. Beh se questo fosse l'inizio della vostra carriera il vostro nome sarebbe Jerry Moffat e nella metà degli anni 80 sareste uno degli arrampicatori più forti al mondo.